Noi abbiamo fatto di tutto per poter dare sicurezza da una parte e dall'altra parte anche una certa normalità, però dobbiamo far di tutto per realizzare anche queste misure di sicurezza, questo metro stabile tra i bambini in classe per non dover provvedere l'obbligo della mascherina per esempio, invece l'obbligo della mascherina in tutti i spazi dove le classi si incontrano anche l'entrata a scuola deve essere organizzata, l'intera comunità scolastica può entrare nello stesso momento eccetera eccetera ma io sono convinto che siamo preparati bene, un secondo lockdown della scuola non ci può essere, assolutamente no e per questo si deve sempre limitare, se ci potrebbe essere anche un caso positivo, si deve sempre limitare questa situazione alla classe stessa decideranno poi le autorità competenti su come procedere in un certo momento se necessario ma non chiudere l'intera scuola in provincia questo non sarebbe pensabile. Secondo me i genitori sanno valutare molto bene se il raffreddore è semplice, che non dà fastidio, che non è un segnale di allarmismo o di malattia però se questo segnale è particolare sicuramente il consiglio è di rivolgersi al proprio medico e di cercare di capire da dove proviene. Un vantaggio soprattutto per le piccole scuole, le scuole in periferia dove abbiamo piccole classi, in questo caso anche una valorizzazione di quella che è la comunità nelle valli per noi questo è importante, naturalmente se inizia la scuola, se inizia la scuola in presenza deve essere garantito anche il trasporto trasporto che oggi in provincia di Bolzano già garantiamo, in periodo scolastico naturalmente va potenziato ma vanno chiarite ancora alcune questioni anche insieme al governo nazionale, al comitato scientifico dove ci sono ancora alcuni punti da definire ma siamo in contatto anche con la conferenza Stato-Regioni e spero che questi punti vengano chiariti al più presto in modo tale da garantire la massima sicurezza sui mezzi pubblici.